la guardi tu solo la ricordi ok quando ce l'hai mi dici fatto fatto fai questo segui le mie istruzioni io mescolo tu prendi il mazzo e lo tagli in un punto dove prendi la prima carta la quale sei capitato se vuoi tagliare due volte tagli due volte la prendi senza vederla la metti al contrario e la lasci così ma al che vada sporge di dorsi non posso vedere ma neanche tu devi vederla ok in italia dimmi quando è fatto si prendi la carta senza te la metti al contrario ok 100% si ottimo io posso sabere ovviamente che carta è tu l'hai vista? tu l'hai vista? no io non l'ho vista No, non l'hai vista, tu però l'hai vista? Ok, fatto. Allora non dare segni di... No, no, no. Io suppongo che sia esattamente 6 di pink. Ce n'è solo una al contrario, vero? Tra tutte quante. 6 di pink. Sì! È stile! Sì! Sì!